e Chiara Sani e lascio loro la parola eccoci allora complimenti per i primi due set comunque veramente favolosi un tuo commento caldo di questo risultato di questa partita sì due set belli devo dire la verità giocati contro una squadra che un pochino ci ha concesso fin dall'inizio come se è stato titolare e anche qualche situazione che avevamo preparato che ci è venuta abbastanza bene siamo stati anche un po' fortunati e dopo tenere riuscissimo ad oggi tenere tre set così probabilmente i nostri sette punti che sono sette adesso sarebbero molto pochi quindi è chiaro che dopo loro hanno giocato veramente molto bene e noi insomma abbiamo abbiamo cominciato a prendere qualche filotto qualche punto consecutivo è stata difficile però insomma credo che se guardiamo nelle due partite aver preso due punti contro Civitanova una l'andata una l'andata e una ritorno avrai firmato quindi va bene così Marco c'è un filotto di partite da giocare adesso si sarà in campo a ritmo serrato cominciare con un 3 a 2 di oltre due ore come questo insomma le energie come sono messe dopo questa lunga attesa siete tornati in palestra avete già fatto due partite a che punto siamo nella corsa verso la massima forma è una cosa un po' nuova perché a me non era mai capitato di non avere la squadra per 17 giorni tutta la prima volta magari qualche giocatore era fuori andava via tornava ma veniva tirato dal gruppo abbiamo cercato di fare il nostro meglio abbiamo analizzato la cosa è chiaro che invece di passeggiare o trotterellare bisogna galoppare adesso subentrerà un po' la stanchezza sicuramente prima mancava un po' di performance adesso manca la stanchezza c'è la stanchezza però insomma credo che un 3 a 2 contro Civitanova anche se lungo anche se faticoso vada molto molto bene ma dal tuo punto di vista questa grinta che hanno comunque dimostrato i primi due set addirittura non sembrava che avessero fatto uno stop così lungo e deriva dalla voglia dalla astinenza da campo di gioco oppure sì 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 è così guarda ti dico solo che il primo giorno che ho ritrovato la squadra in palestra dopo tutti quei giorni ognuno a casa propria mi sembrava di vedere 14 bimbi sotto l'albero di Natale veramente con i giochi nuovi con il sorriso sulle rama ma quel sorriso stampato che hanno i bambini quando vedono sotto l'albero i propri regali incredibili quindi da sfruttare anche un po' questa scia forse spingere un po' l'acceleratore senza rischiare giustamente bisogna avere equilibrio lì esatto oggi Marco li hai fatti entrare tutti abbiamo visto praticamente tutta la rosa a disposizione ma anche ancora Stefani che era forse quello più indietro che aveva più affaticamento dall'esperienza che ha vissuto col coronavirus lui è stato veramente tre settimane fermo proprio fermo completamente poi ha fatto un'altra settimana quindi ha fatto un mese fuori era azzerato diciamo completamente azzerato è tornato a 6 kg in meno in condizioni abbastanza difficili non a livello personale ma a livello sportivo intendo a livello di performance quindi va recuperato con calma penso che già da mercoledì qualcosina possa cominciare a fare bene quindi quella felicità che dicevi lo porterà a recuperare speriamo in fretta la condizione di giocare Chiara siamo a posto complimenti grazie liberiamo Marco con i complimenti mercoledì siamo qui di nuovo ci dovrai ci ritroviamo grazie mille arrivederci ciao arrivederci Chiara appuntamento alle prossime avventure ti mancherai assolutamente mancherò mercoledì ma ci sarò subito dopo e mi sono veramente divertita è stata una bellissima partita e davvero il Ravenna dimostra che c'è una grandissima stoppa una grandissima grinta e grandissima sostanza si combatte tutte le volte sì 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 questo è importante questo è quello che ci fa divertire grazie amici ascoltatori ciao per questo strano pomeriggio di commento ma la prossima volta andrà tutto benissimo ciao grazie a tutti grazie a tutti